Perché mi dica lei, l'attestazione, laddove non è prevista alcuna eventuale sanzione su un'attestazione falsa, laddove non è previsto poi una certificazione certa della nascita del bambino, da dove è nato, di chi è figlio questo bambino, mi lasci dire, insomma, è una certificazione che nulla vale e che nulla serve. Il tema c'è perché questo rischio è assolutamente serio ed è possibile all'interno di questa legge, non mi si venga a raccontare che è escluso, per cui dal punto di vista proprio politico, oltre che etico, valoriale, diciamo in termini anche di valutazione personale, però io dico che proprio dal punto di vista politico in questa legge si sta cercando di scardinare quello che è la nostra Costituzione e tutto quello che intorno ad essa ruota e che i padri costituenti avevano fatto affinché il matrimonio fosse un bene sociale in quanto finalizzato alla procreazione.